In questa terza puntata parleremo dell'assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione o di divorzio. Il principio generale e direi unico è che la casa coniugale segue l'affidamento dei figli, quindi il coniuge affidatario principale che abbia in carico anche dei figli minori o comunque maggiori ma non del tutto emancipati economicamente ha diritto all'assegnazione della casa coniugale. Dico subito che ormai si sta affermando in modo molto chiaro il principio per cui se non vi sono figli minorenni oppure vi sono dei figli che comunque sono già fuori dalla casa coniugale, i tribunali non assegnano più la casa coniugale a nessuno dei due, in quanto evidentemente si tratta di una questione che a questo punto va non più risolta sulla base delle regole del diritto di famiglia ma sulle normali regole del codice civile. Questo è abbastanza importante perché spesso invece si è ingenerata la sensazione o l'opinione diffusa che l'assegnazione della casa coniugale segua più o meno sempre la moglie, questo non è più sostanzialmente vero. Ciò detto, bisogna pur dire che ci sono dei risvolti abbastanza importanti invece per quello che riguarda il caso in cui la casa coniugale venga assegnata a uno dei coniugi e attenzione stiamo parlando di assegnazione dell'uso e non della proprietà che evidentemente segue altre regole. Anzitutto ci viene detto a volte in contraddizione dalla Corte di Cassazione che la casa coniugale in sé per sé non sopperisce esigenze di unio dei coniugi. Questo porta a delle conseguenze di duplice natura. Da una parte fa venire meno l'assegnazione della casa coniugale stessa quando i figli si allontanino dalla casa, perciò la madre tipicamente che abbia avuto l'assegnazione della casa coniugale in quanto affidatare dei figli, nella misura in cui i figli se ne vanno perde il diritto all'affidamento della casa coniugale stessa e quindi potrebbe essere chiamata a rilasciarla. D'altra parte è stato detto che l'affidamento della casa coniugale invece fa parte del pacchetto complessivo relativo al mantenimento della moglie e quindi il fatto che la moglie abbia in uso la casa coniugale legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti della moglie stessa. Questo è stato stabilito recentemente da sentenze della Corte di Cassazione. Rimane invece l'affidamento al coniuge assegnatario e affidatario dei figli anche se il figlio stia prendendo il volo e quindi un po' ci stia e un po' no in questa casa oppure ci torni di rado, finché non se ne è andato del tutto non è possibile liberarsi del coniuge affidatario su questa casa stessa. Invece come dicevo se se ne va completamente cessa ogni diritto del coniuge all'assegnazione della casa. Importante è stato ripetutamente detto che qualora il marito magari proprietario non sia troppo convinto dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la minacci al fine di ottenerne la liberazione, ecco ciò è non solo illecito ma è un reato ed anche un reato grave perché è un reato di estorsione. Quindi evidentemente è un qualche cosa che è totalmente illecito e non si può fare. Sono situazioni che purtroppo ogni tanto capitano. Con una recente sentenza del luglio dello scorso anno 2010 la Cassazione ha stabilito un principio abbastanza innovativo e interessante. Molto spesso capitava che ci fossero delle case coniugali di proprietà dei suoceri, quindi dei genitori di uno dei coniugi, date in comodato, quindi gratuitamente, ai figli in occasione del matrimonio. A lungo la giurisprudenza e quindi i tribunali hanno stabilito che a prescindere da chi fosse il proprietario effettivo, nella misura in cui la casa veniva assegnata generalmente alla madre affidatare dei figli, non era possibile per i suoceri chiederne la liberazione e quindi sostanzialmente se la dovevano tenere. Invece, come dicevo con una recente sentenza dell'estate dell'anno scorso 2010, è stato dalla Cassazione detto il principio contrario, trattandosi di un uso gratuito, i suoceri hanno la possibilità di chiedere la liberazione sostanzialmente immediata, seppure con un minimo di preavviso e quindi l'affidamento della casa coniugale in questo caso viene meno perché non hanno più, anche la madre, non ha più alcun titolo per rimanere in questa casa per la quale evidentemente non pagava assolutamente nulla. Molto spesso ci viene chiesto nell'attività professionale chi paga le imposte relative all'immobile affidato e assegnato a uno dei coniugi. Bene, non c'è dubbio che l'IC continua ad essere pagata dal proprietario, a prescindere dal fatto che ci abiti e non ci abiti, quindi che sia il marito o che siano eventualmente, come dicevo prima, dei suoceri. Ci viene invece detto che nella misura in cui il marito paghi integralmente il mutuo sulla casa, altro caso molto frequente, il fatto che il marito paghi questo mutuo autorizza a ridurre, a volte anche in maniera consistente, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge che invece lì dentro ci vive. Mi pare di poter dire che sia un principio di equità, se uno paga il mutuo evidentemente e l'altro ne trae beneficio, è evidente che anche di questa cosa si debba tenere adeguatamente conto ai fini economici tra i coniugi stessi. Lo scopo di questo video è esclusivamente quello di diffondere informazioni, quindi informativo e divulgativo. Non è un parere legale, si tratta di questioni trattate in via generale e pertanto consiglio a ciascuno di non assumere alcun tipo di decisione sulla base di quanto qui espresso. Ogni situazione è a sé stante e quindi prima di assumere qualsiasi iniziativa rivolgetevi ad un avvocato scritto all'albo, fate esaminare la vostra situazione specifica e solo dopo di ciò assumete ogni iniziativa. È una regola di prudenza ma è sicuramente una regola fondamentale da rispettare.